Bufera giudiziaria sul centro per l'impiego di Vallo della Lucania, secondo quanto si apprende dal quotidiano La Città, quattro persone, il responsabile del centro Antonio Lambiase di Salerno, l'istruttore amministrativo Edmondo Lava, ex sindaco di Perito, e gli impiegati Giuseppe Antonio Cirillo di Perito e Giovanni Cresciullo di Vallo della Lucania, sarebbero indagati per il reato d'abuso d'ufficio in concorso in merito alla procedura di assunzione di 80 operai agricoli alla comunità montana Gelbison Cervati. Secondo quanto emerge, le risultanze del concorso indetto dalla provincia di Salerno nell'aprile 2014 sarebbero al vaglio della procura di Vallo della Lucania, poiché tra gli assunti figurerebbero i nomi di alcuni parenti dei dipendenti del centro dell'impiego o rendagati. Nello specifico sarebbero stati assunti come operai agricoli addetti alle aree forestali il figlio dell'ex sindaco di Perito, Lava, e il figlio di Cirillo e come operaio agricolo qualificato la moglie di Cresciullo. Stando a tali fatti, dunque, alcuni dipendenti e responsabili del centro per l'impiego, a cui era stato dato incarico di curare le selezioni e le assunzioni, ne avrebbero approfittato per inserire i loro congiunti alla comunità montana, composto di lavoro a tempo indeterminato. In queste ore i carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania avrebbero notificato gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari. I quattro ora avranno il tempo necessario a presentare memorie difensive o a farsi sentire dal magistrato per chiarire la propria posizione. Se ancora nella fase iniziale delle indagini, gli avvisi di garanzia sono un atto dovuto per depurare una volta per tutte il concorso da ogni sospetto.